Alla fine sembrerebbe che non sono le assenze quelle a fare delle buone gare, penso che servirebbe tanta cantiveria, tanta grinta e voglia di vincere, perché ho costruito la Visana con una rosa di giocatori quasi tutti allo stesso livello, quindi chi manca manca secondo me non è un grande problema, perché chiamiamole così riserve o ragazzi che non giocano quasi mai perché in disponibilità quando vengono fanno sempre il loro dovere e portiamo sempre a casa dei buoni risultati, serve semplicemente un po' di voglia, un po' di cattività in più. Alla Visana il campionato per andare per gli off è iniziata la prossima partita, questa qua per me e per noi era aperta a qualsiasi risultato, quindi qualsiasi risultato a parte la sconfitta potrebbe andare bene, e adesso noi abbiamo un cammino molto meno difficile a differenza di Roma e Bacci, c'è solamente un piccolo rammarico, come dicevi tu tra i pali presi e delle azioni che siamo andati vicino al gol, bravo Molon, portiere del Checco, ma non scordiamoci che andiamo sempre a incontrare una squadra pluridegolata che del calciotto è la numero uno. Parli della Roma, della prossima incontro? Beh sì, diciamo che sì, potrebbe valere sei punti, però è una partita che andiamo ad affrontare, ecco, preferirei andare ad affrontare come quella di oggi, con un grande cantivere e determinazione, perché solo così possiamo portarsi molto più vicino a loro e al Bacci, perché solamente con i sconti diretti possiamo avvicinarci a loro e poi ecco, loro hanno un cammino molto più difficile del nostro, come ho detto prima, l'importante è andare lì da loro e fare una buona gara e fare risultato assolutamente, perché sennò diventa sempre più difficile.